Non c'è dubbio che dietro Kamala è collimata tutta la macchina propagandistica di raccoltafondi della Clinton Foundation, questo è evidente, e che comunque è un'organizzazione che ha gestito la campagna elettorale di Hillary Clinton, con i risultati che conosciamo, e che comunque ha una presenza territoriale importante e ha accesso a fondi importanti. In più Kamala è sicuramente un candidato molto più interessante per il deep state tradizionale, vale a dire lei ha già dichiarato, chiederà il pieno sostegno di Israele per qualsiasi cosa Israele farà, che porterà avanti il sostegno all'Ucraina fino alla fine e senza limiti e che quindi potenzierà l'esercito alle forze armate americane, perciò è pronta a fare tutto quello che le verrà chiesto da Hillary Clinton e che Hillary Clinton concorderà con l'apparato industriale militare americano, quello tradizionale. Sul fronte di Trump c'è un filone un po' diverso, ossia questa campagna a Kursk sicuramente ha avuto successo, però ha avuto un successo parziale, non sono riusciti ad arrivare alla centrale nucleare, stanno tenendo la posizione al costo di perdite importanti, ma comunque stanno creando un mal di testa importante ai russi e di conseguenza in un certo senso stanno cercando di riscattare l'efficienza del sistema d'arma attuale della Nato, vale a dire dimostrare che in fondo le attrezzature della Nato e quelle che arriveranno sul territorio tra poco, gli aerei, gli F-16 con le bombe a lungo agitato, sono in effetti in grado di tenere testa ai russi in modo efficace e di poterli combattere. Finora quello che abbiamo visto invece era che le varie forniture di armi notevoli in quantità all'Ucraina da parte della Nato erano sostanzialmente risultate in un fiasco militare, quindi non solo la capacità produttiva dell'industria militare Nato, quindi non soltanto Stati Uniti ma tutto il resto d'Europa, ma anche la tecnologia dei sistemi d'arma era decisamente inadeguata, era tarata su un tipo di guerra prevalentemente verso forze di guerriglia, quindi la famosa guerra al terrore, che non è comparabile con i russi che invece hanno un esercito organizzato. Quindi il filone che è anche collimato verso Trump era un filone che vuole soppiantare i grossi, diciamo le industrie importanti nel settore delle difese attuali che ormai hanno perso il treno, che producono armi che sono costosissime, che funzionano male e che spesso non funzionano, con tutta una nuova categoria di armi a basso costo, gestita di intelligenza artificiale, coordinate secondo strategie e modalità completamente diverse, che presuppone naturalmente che alcuni degli attuali produttori d'armi che hanno mangiato abbondantemente per gli ultimi 60-70 anni vedranno i loro entroiti di unire drasticamente e questi soldi si trasferiranno nelle tasche di qualcun altro. Oggi se guardiamo la Clinton, la Harris, sono a difesa dello status quo, quindi quelli che pensano, visto che hanno nucleare a disposizione e hanno comunque una superiorità numerica in termini di soprattutto aviazione e di flotta, di poter indurre i russi a capitale dell'area. Dall'altra parte invece abbiamo gente che dice no, non è il caso, perché una volta che l'escalation supera un certo livello si arriva al nucleare e da lì poi perdiamo tutti, non vince nessuno e quindi vogliono assolutamente evitare questo tipo di situazione. Se la Clinton perde questo giro, scompare, non la vediamo più. In effetti sentivo, poi questa è un'interpretazione, non sono in grado di confermarlo, ma sentivo che Obama, che non è un amico della Clinton, Obama è più allineato verso questo futuro, verso una modernizzazione delle cose, era stato disposto a lasciare che Kamala corresse, che quindi fosse il cavallo scelto da Hillary Clinton, perché qualora fallisse finalmente si toglie dai piedi Hillary Clinton e non se ne parla più. Perciò queste saranno le elezioni che avranno effettivamente conseguenze importanti, non soltanto a livello di politica interna americana, perché ce l'avranno, ma anche a livello di politica internazionale, perché Trump, J.D. Vance, Kennedy, tutti quelli del filone del fronte repubblicano hanno dichiarato apertamente di voler porre fine alla guerra in Ucraina. Nessuno vuole porre fine alla guerra in Israele, nessuno. Però, visto che nessuno è contrario, quello è un fattore che può essere eliminato, perché è invariato, non crea differenza tra uno e gli altri. Quindi su questo fronte abbiamo, che poi ci riescano, come ci riescano, quello è un altro discorso, però c'è l'intenzione di farlo e c'è la consapevolezza che questa non è una destinazione strategica per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti potrebbero uscire da questa avventura decisamente debilitati, se non addirittura distrutti. Dall'altro invece abbiamo un filone, i neoconservatori, che conosciamo molto bene. Tra l'altro abbiamo visto una migrazione notevole di personaggi dal partito repubblicano al partito democratico, tutti i neoconservatori, perché si spostano, migrano. In origine erano nati all'interno dei democratici, poi sono spostati tra i repubblicani quando c'era Bush e poi tornano a destinazione. Che invece, secondo loro, dobbiamo andare avanti fino in fondo, i russi stanno perdendo, perderanno, verranno sconfitti e Putin se ne andrà. Quindi questo è quello che c'è in ballo nell'elezione presidenziale di quest'anno. Tieniamo presente che sul fronte della Harris e Waltz, siccome non possono usare il tema della politica estera per le elezioni interne, perché gli americani di politica estera interessano fino a un certo punto. Quello su cui stanno puntando molto è questo piano economico dove in pratica bloccherebbero, imporrebbero prezzi fissi nei negozi, imporrebbero prezzi fissi per gli affitti, imporrebbero quote di produzione, quindi una gestione proprio sovietica. E in più c'è la battaglia per l'aborto, l'aborto di Stato, l'aborto fino alla nascita, il diritto di avere l'aborto fino alla nascita, che è una cosa di cui Tim Waltz è un campione nel suo Stato, nello Stato del Minnesota. Tra l'altro, se andiamo a vedere la situazione del Stato del Minnesota, vediamo che è uno Stato dove durante l'emergenza Covid Tim Waltz aveva attivato le linee dove potevi denunciare il vicino se andava in giro senza maschera o se andava in giro quando non doveva, perché era uno degli Stati dove c'era il lockdown severo. Quindi la classica tecnica della polizia segreta, in più è uno Stato dove con il suo governo, da quando lui è governatore, hanno perso molti posti di lavoro, uno Stato che non si è sviluppato, si è sviluppato soltanto in termini di posti finanziati dallo Stato. Quindi è proprio una differenza tra il giorno e la notte, tra i due filoni, ed è una differenza che molti americani, anche come dicevo nel Deep State, si rendono conto che è fondamentale, che quindi non è tollerabile. Perciò è uno scontro a tutta manetta. Il fatto che i democratici abbiano il sostanziale controllo dei mass media, salvo poche eccezioni, è ormai confermato e lo sappiamo da tempo. Però i mass media e come pure i cosiddetti sondaggi non hanno più gli effetti che avevano una volta. Oggi vediamo che è molto più importante quello che si vede sui canali alternativi, per esempio sui social media, i cosiddetti podcast. Kennedy, mentre Trump nell'elezione del 2016 aveva dimostrato che l'uso di Twitter poteva fare la differenza, in questo caso Kennedy ha cavalcato i podcast, ha cavalcato quindi le trasmissioni con interviste lunghe, dove esprimi le tue posizioni a modo di spiegare quello che sono i tuoi progetti al posto dei semplici comizi, che comunque venivano fatti. Però l'elemento centrale, secondo quello che lui stesso ha detto, per i numeri che comunque interessanti sono stati raccolti dal suo partito, è stato proprio l'uso di questi canali alternativi. Quindi la gente direi che si sta spostando decisamente verso i canali diversi e considerando che siamo comunque in un regime di tentata dittatura comunicativa, vale a dire, devi stare attento a quello che dici. Anche quelli che rispondono al sondaggio magari non dicono quello che pensano, perché non vogliono problemi. E poi quando vanno a votare votano diversamente. Quindi così come nel caso della Clinton, che avrebbe vinto sicuramente, era garantito, avrebbe stracciato Trump, poi ha perso, anche questo giro direi che possiamo prendere i vari sondaggi e buttarne la spazzatura e abbiamo fatto bene. Questo però non vuol dire che Trump possa arrivare alla Casa Bianca anche quello che vincesse. Quindi al di là di quello che potranno essere i brogli elettorali, qualora vincesse in ogni caso ci saranno problemi, l'hanno già anticipato, nell'entrare alla Casa Bianca, perché cercheranno di fare di tutto per impedirglielo. E questo potrebbe creare una fase decisamente di crisi, perché a questo punto cosa succede? Rimane Kamala Harris, diventa il dittatore dello Stato libero delle banane? Questa sembra essere l'idea. Perciò è tutto da vedere. Credo che l'evoluzione della campagna di Kursk avrà un ruolo fondamentale in tutto questo, perché laddove in Israele abbiamo visto che l'Iran si sta tenendo, non stanno facendo, non hanno risposto alle provocazioni che venivano da Israele. Abbiamo visto alcuni contrattacchi da parte di Hezbollah, ma erano mirati, probabilmente l'Iran farà qualcosa, però l'Iran anche seguendo le istituzioni che ha ricevuto da Mosca, sta cercando di mantenere un profilo abbastanza basso da non scatenare un'escalation regionale, per cui il problema probabilmente lì non ci sarà. Sul fronte dei russi il fatto di avere il truppe nato in casa non è una cosa che possono semplicemente digerire, far finta niente, perché poi comporterebbe dei problemi. So che hanno sfollato 250.000 persone, se non sbaglio, da quell'area che comunque fortunatamente è un'area poco abitata, però rimane un'area storicamente importante, rimane comunque un pezzo della Russia tradizionale che è stato invaso ed è un'invasione che non riusciranno a rigettare con facilità. Questo è il messaggio che ci arriva da dottoro che ce la porta da Mosca. Quindi c'è la constatazione del fatto che benché gli ucraini stiano perdendo uomini, comunque ne arrivano di nuovi e in ogni caso non è una cosa che si risolverà in pochi giorni. Quindi non è come la famosa offensiva dell'anno scorso estiva che si risolse in numero di fatto e che comunque si svolgeva in territorio ucraino. Quindi su questo tema la posizione dei russi potrebbe cambiare, potrebbe cambiare anche drasticamente, perché loro stessi devono porre fine, ci deve essere un limite invalicabile e come segneranno questo limite invalicabile non lo sappiamo, però credo che sia un elemento importante. La sensazione è che da Washington certi elementi vogliono provocare il conflitto aperto, perché una volta che il conflitto è aperto ed è ufficiale a quel punto si crea un stato d'emergenza e le elezioni ce li salutiamo. Questa è un po' la sensazione che c'è.